Si è trattata di un'operazione importante in quanto ha consentito di stroncare una faida che stava assumendo contorni particolarmente pericolosi, con il rischio anche di interessare persone estrane ai fatti. È un'attività delicata, portata a compimento con un straordinario impegno da parte dei carabinieri della compagnia di Augusta e del luogo investigativo del quando provinciale, grazie soprattutto a una conoscenza del territorio, di fenomeni del territorio nord, soprattutto quindi parliamo di Carlentini e Lentini e quindi a una presenza importante sul territorio da parte delle stazioni e dei carabinieri in generale. Si tratta di un'escalation vera e propria, partita diversi mesi fa con degli atti di intimidazione, c'è stato il danneggiamento attraverso l'incendio di un ciclomotore, altri episodi di esplosione di colpi d'arma da fuoco che non sono stati denunciati ma sono stati ricostruiti dopo un'attenta attività info-investigativa e anche alcuni pestaggi perché alcune persone sono state malmenate in maniera anche importante. Ma diciamo che gli strumenti di videosorveglianza oggigiorno risultano sicuramente efficaci e possono costituire elemento importante per la conduzione di un'attività info-investigativa, è chiaro che non è l'unico elemento, è uno dei tanti elementi che può portare poi a compimento un'attività di indagine.